Ehi. Ciao. Peppino? Così, triste. A me mi pare sempre triste. Eh, ma moglie ho comprato un regalo. Manto, il regalo si muove. Vedi, Peppi, la vita è così. Tu oggi hai perso a Gennaro. Però la vita va avanti. Rinasce, non si ferma mai. Hai capito, Peppi? Eh, la vita è più forte della morte. Grazie, papà. Hai capito, Peppi? Hai capito? Sì. Eh, e dilla a papà. La vita è più forte della morte. Bravo. Allora, da oggi tu hai tre nuovi amici. Questo è primo. Questo è secondo. E questo si chiama terzo. Papà? Eh? Stavamo bene. Forse ci volevano i buchi sopra la scatola. Corri, Peppi, vada a far dare il micro a questa mamma. Mamma! Ehi, voi siete il simbolo della vita che rilascio. Non facete fare figure di merdi, eh? Dai! E dai! Corri! Pronto? 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 Ma chi è? Pronto? Grazie.